Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Puntuale come ogni anno a fine novembre è arrivato il momento di parlarvi di The Elf on the Shelf. Anche quest'anno sono qui per mostrarvi le 24 marachelle del nostro elfo domestico, Pennino. Spero che queste marachelle possano ispirare le vostre e soprattutto che questa tradizione americana di cui vi ho già parlato in un video che vi metto qui, possa entrare anche nelle vostre famiglie e rendere ancora più magica l'attesa verso il Natale. Quest'anno ci saranno tantissime novità nella nostra casa con l'avvento del nostro elfo Pennino, quindi mi raccomando non dimenticate di seguirmi sui miei canali social perché lì pubblicherò quotidianamente tutte le avventure della nostra famiglia con l'elfo nel Natale 2021. A proposito di questo allora non dovete fare altro che seguirmi sui miei canali social che sono Facebook, Instagram e TikTok. Vi ricordo del mio shop online che è www.usalemani.com dove troverete tutta la collezione di Natale 2021 con delle idee regalo fantastiche per Natale e vi ricordo che avete la consegna garantita entro Natale entro il 18 dicembre. Oltre a tutte le mie creazioni troverete tantissimo materiale creativo, fustelle, big shot, perline da stirare, plotter da taglio, pistole per la colla a caldo e molto molto altro ancora. Un'ultima cosa ricordate di iscrivervi al canale con la campanella per essere sempre aggiornati di quando caricherò un nuovo video. E adesso vi lascio alle 24 marachelle del nostro elfo Pennino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.